ciao a tutti benvenuti oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale 9 15 novembre 2020 qui vediamo in cielo un po una guerra stellare diciamo che venere e marte si scontrano fra la riete fra il segno della riete e quello della bilancia quindi qui per tutto ciò che concerne gli amori gli affetti ma anche oserei dire io i rapporti interpersonali con l'altro sesso con il sesso a noi opposto qui ne vedremo delle belle andremo poi a interrogare anche ai tarocchi guardati il video del tuo segno zodiacale del tuo segno ascendente e per quello in cui hai la luna per avere una previsione settimanale molto più accurata partiamo con il video cari amici toro eccoci qua andiamo a vedere anche per voi l'oroscopo settimanale allora le stelle non sembrano non paiano affatto male attenzione magari se avete una qualche amicizia fra virgolette nascosta posso vedere anche quello e anche tanta tanta rabbia energia fuoco che siete costretti magari lo credete voi comunque sia costretti almeno dal vostro punto di vista a nascondere a mortificare a tenere sotto pelle quindi attenzione e poi non venga l'esplosione che tira fuori tutto nel nel modo e nel momento magari meno appropriato andiamo a vedere vediamo per il toro quindi occhio alla rabbia repressa l'energia repressa magari avreste voglia di fare però non fatevi dovete reprimere vi reprimete insomma attenzione allora andiamo a vedere qual è il momento presa dicevo il momento presente quali sono o quali potrebbero essere gli eventuali ostacoli le eventuali difficoltà durante questa settimana 9 15 novembre per il segno zodiacale del toro quali gli ostacoli per il toro cosa sta per accadere al segno del toro qual è quale sarà l'evoluzione quindi della situazione per il toro durante la settimana ok e qual è quindi l'esito la conclusione il succo il nocciolo della settimana per il toro qual è quindi l'esito come sarà quindi tutto sommato la settimana per il toro ok allora ma qui fanno vedere sicuramente c'è c'è stata o ci sarà l'allontanamento allora se sei studente queste carte sono evidenti qui c'è l'allontanamento dalla sua classe dalla sua scuola dal tuo gruppo diciamo così di insegnamento di insegnanti e di compagni questo è il è il nocciolo però vedo che qui le comunicazioni continuano continueranno oltre a questo qui ci potrebbe essere o un professore se sei studente o un uomo che ti interessa o comunque con cui dovresti fare del business o hai degli interessi diciamo così insieme ecco questa persona ti sarà lontana durante questa settimana ma ti sarà lontana potrebbe anche significare nel senso che vabbè non la potrai né vedere né né incontrare diciamo così ma magari non potrai fare un qualcosa insieme che invece avresti dovuto o voluto fare in altre parole quindi praticamente c'è un qualcosa di pratico che avresti dovuto combinare insieme ad un'altra persona che però almeno per questa settimana non potrai non potrai fare qui va bene verrai giudicato verrà giudicata quindi se sei studente per le materie scolastiche se non sei studente verrà giudicata magari semplicemente se hai per esempio anche una causa in tribunale di separazione mi fanno vedere queste carte qui potrebbero cominciare ad arrivare delle sentenze o comunque delle prime opinioni ok bisogna vedere un po la sua la sua situazione qui guarda quello che c'è di bello qui c'è molta famiglia agli affetti l'amore familiare diciamo così dentro le mura domestiche qui il toro potrebbe ricevere proprio un dono qualcuno magari proprio la madre la madre ma anche la sorella o la zia la cugina insomma una persona di casa che potrebbe darti un dono regalarti qualcosa farti un invito dimostrarti il suo amore il suo affetto o con un dono proprio materiale o semplicemente con un gesto amorevole pieno d'amore e d'affetto per te quindi qui l'amore intorno a te c'è me lo conferma anche questa carta l'amore proprio della famiglia qui tutte le carte mi parlano di famiglia o comunque di amore ma l'amore quello vero come ti posso dire l'amore ecco come la famiglia sa darti o almeno dovrebbe saperti dare perché poi purtroppo ci sono anche delle famiglie che non sono ahimè idillia per i più svariati motivi insomma va bene comunque avete capito quello che vi voglio dire adesso poi andiamo ad ampliare con i tarocchi e chiediamo lumi qui si vedo un pochino allora molto preso o presa da cose tue quindi magari o da degli studi da delle ricerche che devi fare che stai facendo quindi magari qui stai stai ricercando qualcosa in tutti i sensi che sia per studio che sia nella sua vita insomma c'è un qualcosa che stai che stai cercando che cercherai andiamo a vedere i segni zodiacali cioè ti vedo proprio come se tu volessi ma anche dentro di te magari andare a capire qualcosa andare a scoprire a scovare qualcosa chissà che cosa c'è in quella testolina del toro ok allora vediamo i segni zodiacali coinvolti e poi andiamo a chiedere abbiamo ampliare con i tarocchi con quali segni zodiacali avrà a che fare il segno del toro durante la settimana allora qui c'è la vergine il leone che viene riconfermato diciamo il segno del cancro il sagittario i pesci e lo scorpione e ormai l'ho visto bisogna mettere anche il toro e la bilancia vergine toro bilancia leone cancro sagittario scorpione pesci va bene questi segni con cui avrai più a che fare durante la settimana quindi dimmelo se ti richiamano qualcuno diciamo diciamo così poi durante la settimana scopriremo insomma come si dice scopriremo solo scopriremo solo vivendo allora andiamo a vedere che cosa cerchi nel senso o comunque sia perché c'è questa carta o queste carte meglio dire che mi richiamano la sua ricerca il tuo chiuderti tu isolarti mi viene quasi da dire tu ti metti in quarantena c'è questo isolamento volontario in famiglia in casa quindi magari boh ti isoli da qualcuno della sua famiglia per un qualche motivo magari per il virus che lo sa non lo so anzi dimmelo per favore nei commenti va bene comunque andiamo a vedere guarda guarda la stessa la stessa la stessa carta questa è una settimana che ti vedrà circondato dall'amore della sua famiglia e tutto quanto ma io ti vedo proprio in quarantena quindi a tutti gli effetti e quindi quarantena in tutti i sensi può essere per il virus come può essere guarda qui c'è la preoccupazione molto forte da parte del toro quindi qui c'è un qualcosa che non ti fa stare tranquillo che ti preoccupa e ti fa isolare vedi tu cos'è nella sua vita dal virus dalla paura del virus dalla quarantena da qualcuno insomma lì ma io qui ti vedo circondato circondata dall'affetto e dall'amore dei suoi cari che possono essere di famiglia nel senso proprio genitori figli mariti mogli parenti a magari un amico un'amica un compagno proprio proprio con te molto affiatato insomma qui sei circondato dall'amore dall'affetto sicuramente però ti vedo un pochino isolarti un po un po isolato va bene almeno durante questa settimana quindi fammi sapere qui nei commenti che mi interessa va bene toro un bacione alla prossima ciao 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 ciao